Allora, adesso facciamo il tutor, la spiegazione, della coreografia di cosa ti aspetti da me e la maestra Elena Pucci, che sarei io. Allora, iniziamo. Ci sono quattro pacchetti da ricordare, A, B, C e D. Primo pacchetto, pacchetto A, esitato, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3. Qui c'è il doppio esitato, che è 1, 2, 3, 4. Ritorno indietro con cia cia cia, cia cia cia, cia 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 cia. Ripartiamo con l'esitato, è 1, 2, 3, ancora, è 1, 2, 3. Doppio esitato, 1, 2, 3. Sul 3 ci sono due cambi di peso. Ritorno indietro, cia cia cia, cia cia cia. Adesso c'è il pacchetto B. Facciamo una baciata laterale, 1, 2, 3, 4, 8. Facciamo un altro quarto di giro. 5, 6, 7, 8. Di nuovo la baciata laterale. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 4, di giro. 5, 6, 7, 8. Qui invece facciamo una baciata in avanti. Quanto è ritornare qui? 1, 2, 3, 4, di giro. 5, 6, 7, 8. Rifaccio la baciata in avanti e un giro intero a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui c'è il pacchetto C che sarebbe il ritornello internello. Allora, il ritornello è così. Peso, peso, cia cia cia, un quarto a sinistra. Sinistro avanti, incrocio, cia cia cia. Lo rifaccio. Peso, peso, cia cia cia. Sinistro, incrocio, cia cia cia. Nuovo. Peso, peso, cia cia cia. Sinistro, incrocio, cia cia cia. Adesso c'è il pacchetto di apro, chiudo, cia 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 New York. Peso, peso, ancora New York. Peso, peso, cia cia cia. Apro, chiudo, cia cia. Qui c'è un intervallino che attacca la sequenza D alla sequenza A, che è questo. Uno, due, tre, quattro. Il ballo si ripete per due volte A, B, C, D, E. Dopo la terza volta si ripete A, C e D due volte. Grazie.